Oggi al Campus FIDE abbiamo parlato di coding e di come può migliorare la nostra didattica. Sono Ravenna Italo, docente di scuola primaria e Apple Distinguished Educator. Abbiamo presentato come il coding può essere integrato in maniera trasversale in tutte le nostre discipline didattiche e abbiamo presentato Everyone Can Code, che è il programma Apple che fornisce la soluzione per i docenti e per gli alunni per fare un percorso trasversale, quindi dalle prime classi della scuola primaria fino alle superiori per imparare il linguaggio Swift da utilizzare poi per la vera e propria programmazione in modo da poter dare ai nostri alunni e ai nostri ragazzi un futuro su occupazione di lavoro che ancora oggi sono quasi sconosciute, dico quasi perché sono lavori ancora in itinere.